Anche oggi comunico ai miei ascoltatori che respiro, anche discretamente bene, fino a quando non so, ma comunque vediamo un po'. Allora, uno l'altro giorno, anzi sono uscito di casa e sono arrivato davanti al Caffè Trentino e avevo incontrato un signore che diceva Tamanini come sta? Benissimo! E questo mi ha guardato e diceva benissimo, all'età che è impossibile però è stato dubbioso e non è andato, però è andato via un po' dubbioso, ma non gli ho dato questa soddisfazione, non gliela davo questa soddisfazione. Quando qualcuno mi incontra se non mi domanda come sta, perché sto benissimo. Proseguiamo l'argomento. Allora, voi sapete che credo di avere molti nemici, questo lo sa tutti perché quando uno ha la lingua lunga è facile che non sia molto gradito a quelli che gli ha falsa e non amano le cose dritte e l'onestà. Allora veniamo a noi, l'altro giorno uno mi ha dato del visionario, mi ha detto Tamanini, ma lei è un visionario, è un visionario, mi non so se me l'ha detto per i balonzoli o se me l'ha detto perché cosa. Però ci ho pensato, ci ho pensato e allora ho detto ma guardati, forse non ha tutti i torti perché sapete nella vita capita un momento in cui ti passa davanti un film, ti passa davanti un film di quello che è stata la tua vita, di quello che hai fatto in bene e nel male, ma rapidamente uno ha una visione del passato. E allora ho pensato, visionario, ma se fosse tutti i torti, perché? Adesso vi spiego. Quando hanno fatto l'autostrada del Brennero, io allora mi sono battuto con tutte le mie forze perché l'ingresso nel Basso Sarca non avvenisse da Roveretto attraverso quella valle che a me non piace del lago di Loppio. Avevo fatto una battaglia perché l'ingresso nel Basso Sarca venisse dal Bus de Vela perché dal Bus de Vela si entrava nell'ingresso naturale verso il Garda perché il lago di Toblino, il lago di Cavedine si scendeva e c'era tutta un'apertura verso un panorama, mentre uscendo da Roveretto si usciva di traverso e non era, secondo il mio modesto parere, così bello. Una, ma naturalmente noi l'ha fatto. Due, quando c'è stato il momento di fare la zona industriale e si è messo in mente di farla nella zona dove c'è adesso, che non mi ricordo, mi ricordate voi due, come si chiamava quella zona lì? Prade la Fama. Prade la Fama, perché se lo avevo il Parisi, il Gala, perché adesso, scusate una piccola inciso. Tutti mi domandano, dottore, ma da dove fa la trasmissione? Dov'è che fa la trasmissione? Beh, la trasmissione la faccio davanti a due signori che mi guardano e sono là che mi spiano per vedere quello che dico. Che se c'è, ma ve lo ripeto, il professor Parisi e il Gala. Quello non capì ben se mi fai fare le trasmissioni perché così riesci a portare avanti i telegardi o se perché parlo bene. Comunque questo è il dubbio che mi leverò. Allora torniamo al Prade la Fama. Effettivamente era il Prade la Fama, era brutto, eccetera. Ma sottoscritto sempre come visionario, avevo immaginato che prima o poi ci sarebbe stata una zona turistica, perché il Garda è troppo bello, è una zona troppo bella, c'è un clima troppo bello, è giù di questo passo. E ho avuto una battaglia, mi ricordo ancora, con Gabriele Santoni, che lui era segretario allora di Kessler e compagni. Bene. E io avevo detto non fatela lì, ma facciamo la zona industriale a monte verso Ceniga, perché se la facciamo verso Ceniga, adesso chi vede Ceniga e la zona di Dro è totalmente diversa, bisognerebbe fare un salto indietro di 60 anni e vedere che cos'era quella zona lì che era totalmente brutta e non era niente di niente e di niente. Qui non mi sembrava il posto tutto, perché quella zona lì, guardate, io avevo pensato che lì avrebbero potuto fare un grande campo da golf, ma queste erano le visioni di quel Matt de Tamalini e allora le cose non le hanno fatte. Poi un giorno sono il Consiglio Comunale, premetto, rappresentavo i liberali, di Consiglio Comunale e vado a fare una passeggiata per i Patetica, vago al lago di Tenno, poi vengo in giù e mi fermo alla volta de' No. Lì c'era un bar che c'è anche adesso, ma allora era una cosa più rustica. Notate bene che lì non c'erano tutte le case che adesso, mi sono fermato e ho guardato verso il basso Sarka e ho guardato giù. Allora la prima cosa che ho visto è il Capitello di Santa Caterina, che lo vedevo, ce l'avevo proprio lì di fronte, poi c'era il salto al San Pancrazio, guardando a destra arrivavo a San Tommaso, poca cosa. E ho pensato lassù, ma vada te, qua un giorno o l'altro ci sarà un'unica strada, ci sarà un'unione, perché l'evoluzione dell'edilizia e l'aumento della popolazione, eccetera, eccetera, porterà certamente ad un'unione. E avevo immaginato che questo corso che c'era tra riva ed arco lo avremmo potuto chiamare il Corso Buonas Aires di Milano e che avremmo fatto un unico comune che si sarebbe chiamato, non secondo un certo Federico Caproni, che era il fratello del famoso Gianni Caproni degli aerei, ma era un grande intellettuale, il quale aveva immaginato anche lui che questa zona avrebbe dovuto chiamarsi Sommolago, che poi adesso fanno una rivista chiamata Sommolago. E mi sarebbe piaciuto che questo corso. E avevo immaginato che ognuna di questi comuni smettessero di essere comuni, ma che fossero dei rioni. Se voi andate a Milano e nelle grandi città ci sono rioni. Andate a Napoli, che è il rione Sanità, che è il rione di chi, che è il rione di là. Allora avevo immaginato che Arco dovesse essere il rione sanità, che Riva fosse stato il rione turistico, perché questa zona aveva queste caratteristiche. Allora naturalmente c'era la tubercolosi e quindi per me era più facile parlare di sanità. Quello non avevo immaginato che un giorno o l'altro questa zona avrebbe avuto uno sbocco turistico di questo corso. Ne ho avuto sentore al circolo della vela di Torbole, perché chi non lo sapesse per un periodo di tempo, anche se io ho sempre odiato lo sport, perché sono uno che sport ne ha fatto in gran poco, ma a barca a vela ero seduto col timone, quindi l'era anche abbastanza rilassante e ho fatto per parecchio tempo vela. E in una regata che c'è stato, perché anche nella vela c'è stato i cambiamenti, sapete come il tennis e come il golf, che vi ho parlato una volta, erano un po' degli sport di elite, giocava a tennis, qui che aveva una certa posizione, erano così delle manifestazioni turistiche, saprei dire, più per far vedere che si faceva qualcosa di diverso che proprio vero sport. Allora veniamo alla vela. A un bel giorno lì al circolo della vela, allora sono stato anche caposede, è arrivata una signorina con il suo fidanzato, la moglie di uno, la figlia di un avvocato, Remberg, mi ricordo ancora, di quelli che avevano quelle case che sono state costruite lì verso Castelpenede, non so se avete presente, ci sono tutte quelle case che adesso non avrebbero certo potuto costruire, è venuta con questo fidanzato e una tavola. E ci ha detto, sa, questo è il surf, è il nuovo sistema, in Australia è molto, questo fidanzato era australiano, insomma a farvele in breve ci ha proposto l'esclusiva per l'Italia della vendita del surf. Allora mi ricordo che era Saltoni, che era Loradini, Bertamini, Garamini, Garamini, ah mi chiedevo perché è matto, la barca così costa, vorrei che si chiede. Morale della favola che invece quella barca ha avuto un grande successo. E cosa è successo? È successo che queste prime persone che sono venute, sia col tornado e poi col surf, erano gente anche di livello, non erano dedicati agli operai, perché proprio che era, mi ricordo, un professore di greco dell'università di Norimberga, poi che era un altro, mi ricordo, primario chirurgo dell'ospedale di Monaco, l'ingegnere nucleare, nemmeno sono dove che era, insomma era tutta, che però a un certo momento era stufa di fare questa vita, diciamo un po' elittuaria, di elite, però che doveva, viveva una borghesia, e aveva bisogno di dire, adesso, non sai, basta che lo piemi i baloni di chirurgia, del greco, di tutto quanto, vuoi andare a fare una vita spartana, semplice, vado col surf, o vado col tornado. Queste persone però, non il basso tarca, adesso ve lo immaginate alla maniera, ma allora non c'erano tutti i ristoranti che ci sono adesso, non c'era tutta la ristorazione come c'è adesso, e un punto di riferimento l'era la Lega con l'Andreina, dove io andavo da scapolo a mangiare insieme al Todeschini, al Frizzi, eccetera. Allora era una trattoria dove si mangiava bene, ma molto semplice. Allora quando ero laggiù, questi tedeschi mi hanno detto, Carlo, per la mangiare questa sera, va alla Lega, o li mandavo anche su il Montevelo, dai Finotti, gara da Finotti, alle sorelle di Mori, beh, perché le fai da mangiare su ordine, insomma, in maniera semplice, e li mandavo anche lì. Un giorno mi capita un signore che neva col surf, e anche col tornado, ma tutte quelle rocce che ci sono dopo, che storia hanno, come mai quelle marocche lì? Allora non ero documentatissimo, però mi ricordavo qualche cosa che era a fonte del terremoto, che c'era stato anche il roveretto, che Dante le aveva citate, e gli ho detto, dico, guardi che quella lì c'è stato un terremoto, eccetera. Oi, il giorno dopo me il vedo con da una corda sulle spalle, ma dico, scusa, dove è il dottor? Ah, dice, voglio andare a fare un'arrampicata su quegli affari che mi ha detto lei l'altro giorno, dice, lì ci sono delle pareti molto belle, dice, guardi, come si chiamano, sa come si chiamano? Oltre, mi giuro, non so che in quel momento, dico, guardi, mi informo, ti saprò dire, eccetera. Oi, le nasure, se mi credete, se mi credete, è nato tutto così, perché Torbole aveva il vento, che era un elemento negativo, stranegativo, perché il vento Torbole non andava bene. Invece, per quelli del surf, è stata manale come la neve per i sciatori, di modo che tutto il periodo turistico di Torbole, che andava da fine luglio ai primi di settembre, si è totalmente trasformato, per cui anche gli altri mesi, quando c'era un effetto negativo dell'aria su quello che era il turismo, d'improvviso è diventato occorre. Ecco, questo l'està è il visionario Tamanini, può darsi che mi sia anche sbagliato, ma visto che respiro ancora, chissà che non abbia qualche altra intuizione, ma c'è un'altra soddisfazione, vado breve, ma segna qua, perché voi non sapete che mi dai minuti, chi ha scritto ancora due minuti, perché tutto calcolato, allora nei due minuti vi dirò che sono molto contento e soddisfatto che forse la stazione delle Corriere avrò il piacere, prima di tirare le cuoia, di vederla sistemata. E ne avrei un'altra notizia, perché oggi ho visto il dottor Gardini e mi ha detto che le lamiere delle palme, forse, cioè che c'è già la delibera in provincia per l'abbattimento. Quel giorno chi mi incontra potrebbe incontrarmi anche leggermente alterato, perché mi avevo garantito un bicierde bianco alla salute. Arrivederci.